E' stato disposto lo scorrimento della graduatoria del bando Agora Abruzzo, spazio incluso nell'ambito del piano operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, asse 2, inclusione sociale obiettivo 9, per un importo complessivo di 1.710.000 euro. I beneficiari ammessi al finanziamento sono l'ambito distrittuale sociale numero 12, Sangro-Aventino, ECAD, Unione Montana dei Comuni del Sangro, l'ambito distrittuale sociale Fino-Cerrano-Comune di Silvi e l'ambito distrittuale sociale L'Aquila-Comune dell'Aquila. Intervento ha l'obiettivo di contrastare il fenomeno della povertà e dell'esclusione sociale, con particolare riguardo ai soggetti svantaggiati che presentano problematicità complesse per i quali viene promossa l'inclusione attiva. Con questa iniziativa, ha osservato l'assessore alle politiche sociali Pietro Quaresimale, Ampiamo la platea dei beneficiari che potrà promuovere e attivare centri di aggregazione sociale per finalità educative e lavorative. Agora prevede inoltre una seconda fase dove saranno riservate risorse del Fondo Sociale Europeo per i medesimi soggetti che andranno a costituire ed avviare nuove imprese sociali.